la forma delle nuvole spesso incanta creando spettacoli della natura incomparabili il fenomeno atmosferico che si è verificato vicino al coccovello che con i suoi 1500 metri il più alto monte del golfo di policastro ha lasciato davvero senza parole che ha alzato gli occhi al cielo le foto da tre diverse angolazioni e precisamente dalla spiaggia di policastro bussentino da scario e dal bivio di rocca gloriosa mostrano una specie di fungo l'aspetto ricorda quello della terrificante bomba atomica si tratta invece fortunatamente di un cumulo nembo nubi a forte sviluppo verticale che hanno raggiunto il livello di stabilità stratosferica terminano superiormente con la caratteristica forma incudine e solitamente danno luogo a precipitazioni temporalesche un panorama incredibile è davvero unico perché generato dalla natura e non dall'uomo che spesso rovina la perfezione non protegge ciò che è importante per inseguire l'effimero e distrugge ovviamente se stesso la speranza in un ritorno ai veri valori e quindi alla salvaguardia del creato